ma adesso è giunto il momento di collegarsi con lui si abbiamo un collegamento con noi il nostro primo ministro Matteo Renzi ciao ragazzi come andate? bene bene tu come va? come la va? so goncio ragazzi sei stato a Bologna si mangia bene ho fatto il parto del tortellino il parto del tortellino non il patto il patto si è bevuto anche perché ovviamente mamma mia sembrava una puntata di Masterchef tutti poi con la camicia bianca eravate io ormai ho la taglia di Depardieu addirittura Depardieu sembravate Cracco, Barbieri e Bastiani una cosa ragazzi cosa c'è? dai che è successo? sappiamo che tu sei uno che comunque va sempre sui social network esatto bisogna stare vicino alla gente bisogna neanche stare attenti però esatto perché il problema è che mi ha scritto una ragazza no da sé e mi ha detto guarda io sotto la doccia faccio i numeri io sotto la doccia faccio i numeri? oh mamma mia e tu cosa gli hai risposto? allora gli ho risposto ma che c'hai la calcolatrice subacquea? no e lei? lei mi ha cancellato dalle amicizie ti ha tolto l'amicizia è inevitabile direi no? cancellato assolutamente senti c'è la bindi che si è un po' lamentata pur essendo d'accordo con le tue idee dice che qui la scelta delle ministre delle signore ministre è stata un po' tutte belle tutte belle insomma lei si è sentita un po' messa in disparte ecco perché? ma adesso vi spiego ricordate le ministre che sono state fotografate in spiaggia? sì allora lei è successo pure a lei ah sì? sì solo il problema è che lei si è sdraiata sulla battigia sì è arrivata Greenpeace no 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 sì la mette il sinone e il schiacchi d'acqua no ma no dai è cambiata no dai per favore ma no non ci credo va bene grazie Matteo grazie Matteo buon lavoro eh vai che devi scolare i tortellini vai ah 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 ah